Questo è il bambù, il bambù insomma io lo adoro, è una pianta che tra l'altro esiste anche al freddo, quindi è una pianta pur essendo esotica in quanto viene da lontano odiente, è una pianta che si adatta benissimo a climi anche continentali da noi, l'ho vista anche in zone freddine vicino al nostro appennino centrale, comunque l'ho vista anche al nord Italia. È una pianta che secondo me ha tantissimi riscontri anche d'arredo, per esempio si può fare una siepe nei vasi di bambù che dà questo tocco leggiatro, si può mettere in un angolo dove non si propaghi, anche perché poi spesso viene detto che il bambù è invasivo, è imbatente, sì, nell'ambito di 50 anni, però non è che uno metta la pianta oggi e domani tutta la casa è invasa dal bambù, quindi ce ne vuole di tempo. È una pianta che nel posto giusto presenta tantissimi aspetti d'arredo.